Tra le sorprese più piacevoli del palinsesto Netflix spicca la produzione BBC Kunk on Earth, un finto documentario in cinque puntate in cui la sedicente giornalista Filomena Kunk ci guida in una personalissima e spassosa ricostruzione della storia dell'umanità. Armata di letture distratte, parere di cugini e video su YouTube, la nostra eroina espone una quanto mai approssimativa interpretazione dell'evolversi della nostra civiltà, confrontandosi con i massimi esperti dello scivile umano in una lotta impari in cui la sua idiozia esce sempre vincitrice. A tutti gli effetti, Kunk on Earth rappresenta lo stato dell'arte del British Humor. Ma per quanto la nostra Filomena abbia colpito un gran numero di appassionati del genere anche qui in Italia, i suoi infami documentari sono noti oltre a Manica già da almeno una decina d'anni. La Kunk, infatti, ha iniziato come inviata del TG comico di Charlie Broker e poi ci ha deliziato con una serie di speciali che potrete trovare a spezzoni su YouTube. Negli anni, questa sconsiderata divulgatrice ha raggelato il mondo della cultura colpendo sempre più in alto. Shakespeare, il Natale, la Gran Bretagna, l'umanità. Filomena li ha messi tutti in riga e falciati con una raffica di teorie talmente deliranti da lasciare il più delle volte i suoi sfortunati interlocutori senza parole. Poteva mancare un libro alle imprese di questa sciagurata? Certo che no. Ecco che allora Kunk on Everything, l'enciclopedia, è un grande libro perché spiega tutto ciò che esiste a parte un 95% di cui sinceramente non vale la pena occuparsi. O almeno questo è quanto si desume dalle note di copertina scritte dall'autrice. Scrittrice, intervistatrice, divulgatrice, viaggiatrice, conduttrice. Filomena Kunk potrebbe essere acerrima rivale di Alberto Angela ma la sua vera nemesi è quel Sir David Attenborough che da circa un centinaio d'anni monopolizza il mondo dei documentari commentando sottovoce gli ormai esausti abitanti della savana soddisfacendo così il voyeurismo intellettuale e imperialista dei britannici. Uno scontro tra questi due titani sarebbe sicuramente degno di una visione ma il centenario baronetto naturalista ha ormai oltrepassato la terza età da tempo ora sta esplorando la quarta e punta deciso la quinta a natura piacendo mentre per la nostra Filomena l'impedimento maggiore risiede nel fatto di non esistere. Infatti, dopo una rapida ricerca che chiunque di voi può effettuare seduto nel bagno di casa emerge che la Kunk non è altro che un personaggio di fantasia interpretato dalla bravissima Diane Morgan. Probabilmente qualcuno di voi l'avrà già incontrata nei panni di Kat nella serie tv Afterlife di Ricky Gervais che abbiamo commentato qui su Mondo Serie in un articolo molto apprezzato. Se l'umorismo della Morgan è nelle vostre corde oltre agli speciali di cui vi ho parlato poco fa e due cameo in Morte al 2020 e 2021 di Netflix esiste anche una piccola serie chiamata di Archiviologist in cui la nostra si diletta a ridoppiare filmati d'epoca con esiti a dir poco esilaranti. Ma torniamo a Kunk on Earth. Dai primi insediamenti umani fino alle armi nucleari Filomena ci guida senza alcuna cognizione di causa rassicurandoci davanti alle primitive pitture rupestriche che con il proseguo delle puntate le cose andranno meglio mettendo insieme le tessere di un mosaico evidentemente pensato a casaccio e proponendoci come testata d'angolo della creatività umana il pezzo dance pump up the gem dei Technotronic. Ma il meglio di sé la nostra lo dà nelle interviste. La Kunk in puro stile BBC interroga i maggiori luminari in ogni campo dello scibile ma come ormai avrete intuito le domande svariano tra l'imbarazzante e il fuoriluogo tra il nonsense e la ghiacciante. Bisogna ammettere che una buona parte del divertimento che si prova nel guardare questo show sta nel contemplare le espressioni degli esperti. C'è chi ascolta interdetto chi incredulo crede di aver capito male chi tace soffocando un grido interiore chi abbozza una risposta e chi invece comprendendo il gioco che sta dietro tutta l'operazione dà risposte serie e articolate. Se confrontiamo le reazioni di questi esperti con quelle per esempio dei malcapitati intervistati a inizio carriera dal comico Sacha Baron Cohen nei panni di Ali G, Bruno o il famosissimo Borat appare evidente che gli ospiti della Morgan sappiano più o meno a cosa stanno andando incontro. Mettere la comicità di Cohen ha sempre puntato allo shock, all'oltraggio demolendo a suon di provocazione l'establishment Filomena Kank agisce in punta di fioretto mettendo a proprio agio l'ospite in un contesto serioso e spesso proponendo una introduzione all'argomento appropriata per poi colpire con tutta la sua apparente stupidità. Perché quando dico che questa serie rappresenta lo stato dell'arte del British Humor intendo che la Morgan è attualmente la grande erede di quella comicità nonsense intellettuale ma profondamente pop lanciata da Spike Milligan e Peter Sellers e che ha avuto i suoi maggiori interpreti nei famigerati Monty Python storico gruppo inglese a cui ho già dedicato una puntata di questo podcast. Una comicità fatta di improvvisi cambi di ritmo di espressioni imperturbabili di momenti di silenzioso imbarazzo e se avete anche una minima conoscenza della cultura britannica sapete che vivere un momento così equivale a un girone infernale. Visti in molti richiami all'assurdo e al nonsense qui in Italia spesso questi comici vengono considerati come demenziari ma sono tutto il contrario. Il demenziale è viscerale e immediato non è inferiore all'intellettuale solo stimola in modo diverso lo spettatore spesso scatenando la risata irrefrenabile e involontaria. Lo humor dei Python e della Morgan invece è intellettuale si ride se si conosce ciò di cui si parla e noi, piccoli saputelli sorridiamo compiaciuti delle quattro nozioni che ci siamo infilati in testa compatendo la Kang con le sue teorie da bar e i suoi poveri interlocutori costretti a trovare un dritto in un discorso spesso senza capo né coda ma è quindi puro gioco intellettuale fino a se stesso? O una serie di corbellerie dette per compiacere la borghesia? No, Kang on Earth è uno splendido cortocircuito in primis perché si fa beffe di complottari e guru dei significati occulti Filomina oppone a tesi scientifiche le esperienze di vita del cognato e del cugino consiglia a professori universitari di andarsi a vedere su YouTube un video di 15 minuti che cambierà per sempre il loro modo di vedere le cose e come lecito aspettarsi non cambia l'idea neppure quando viene sonoramente smentita insiste pervicace nelle proprie convinzioni o tutt'al più cambia argomento ma non è solo questo nello specchio deformante del grottesco le assordità che ci circondano vengono portate a risalto Kang on Earth non è formalmente poi così lontano da tutte quelle trasmissioni pseudo-scientifiche che puntano sul sensazionalismo becero che svendono i fatti in nome dei dati d'ascolto e che confondono scientemente la divulgazione con l'infantilizzazione il problema non sono i filmatini di 5 minuti che giurano di cambiarvi la vita né tanto meno i quintali di opinionisti da smartphone quanto una divulgazione che è sempre più fiction a tal punto che potrebbero passare come documentari scientificamente accertati opere di finzione un bel dilemma che chi ha a che fare con la comunicazione si è sempre posto sin dai tempi di quella splendida beffa che fu la guerra dei mondi di Orson Welles a confondere ulteriormente le acque Filomena Kang fa un ulteriore passo forse quello definitivo scardinando l'ordine sociale con la saggezza dell'idiota perché il mondo delle scienze con le orecchie sanguinanti a fura di sentirsi messo in discussione da castronerie senza costrutto potrebbe perdere la voglia di ascoltare e dialogare potrebbe rintanarsi nell'autoreferenziale cosa che accade già per molti gruppi sociali la Kang nei suoi momenti migliori sembra mettere a dura prova la pazienza dei suoi intervistati ma in realtà li porta a un diverso livello di dialogo costringe i suoi interlocutori a guardare le cose da un differente punto di vista abbatte le barriere del sapere nozionistico per esaltare la comprensione e ci ricorda che in fin dei conti siamo di fronte a due esseri umani che parlano tra loro che si comprendono e che si danno conforto come deve fare il professor Ashley Jackson dopo aver rivelato alla povera Filomena che le armi nucleari purtroppo esistono ancora grazie a tutti grazie a tutti